ciao sono marco ed oggi ti presento questo film di arti marziali intitolato implacabili colossi del karate la trama inizia con un fuorilegge che cerca di sfuggire a vecchi amici di malefatte ma poi ad un tratto incontra un bizzarro vagabondo che senza nessun motivo va con lui e lo aiuta a sconfiggere i suoi vecchi amici diciamo diventati nemici il film è stato prodotto nel 1978 la regia di san chang con alessandro fu shang che avevo già visto nel film i giganti del karate ok con questo è tutto io ti lascio il link sotto prima e seconda parte per vedere il film niente io ti auguro buona visione ciao